GIOVEDÌ DELLA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA DAL VANGELO SECONDO LUCA In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare, e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero, è per mezzo di Bezebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni di sé, ogni regno, diviso in sé stesso, va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in sé stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Bezebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Bezebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma, se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava, e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Il Vangelo di oggi registra una polemica infinita, nata dall'esorcismo che Gesù opera nei confronti di un uomo. La diatriba è semplice. Gesù riesce a fare quello che fa, perché è davvero il figlio di Dio, o perché è in combutta con il demonio. Quella che potrebbe sembrare una domanda geniale, si rivela, invece, la più banale delle domande, proprio grazie alla risposta di Gesù. Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano. Per questo saranno loro i vostri giudici. Se, invece, io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Risolto il problema sulla capacità di Gesù di fare ciò che fa, forse possiamo recuperare un dettaglio non di poco conto. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare, e le folle furono prese da stupore. Il male appare come colui che impedisce la parola, comunicazione. Gesù è colui invece che restituisce la parola e ripristina la comunicazione. Un'autentica vita spirituale è tale quando ci aiuta a recuperare quella parola che ci tira fuori dall'isolamento interiore. In questo senso, delle volte, una buona confessione può essere il punto di svolta nella vita di una persona, che da tanto tempo sembra essere ostaggio di eventi, ferite o cadute, ma che trovando la via del dire, fa finalmente entrare la grazia necessaria a venirne fuori. Ecco perché il gesto di esorcismo, più vero, a cui possiamo sottoporci, è quello di riscoprire autenticamente il sacramento della riconciliazione. In confessionale ci si può ritrovare con la vita liberata. San Pio da Petalcina e San Leopoldo Mandic sono due fulgiti esempi di liberatori a questa maniera. Anche per loro è valso il medesimo destino di essere accusati da qualcuno di essere in combutta con il demonio, ma l'albero lo si è riconosciuto dai frutti.